Qualche sortita della squadra francese. E poi il contestato rigore. Al 44esimo minuto l'arbitro non vuole sentire ragioni. Cambia ovviamente la partita. Per il Celtic si incarica Gemmel che fa gol. 1-0 e svantaggio dimezzato. Nella ripresa il gol di Craig al 59esimo. E poi di Chelmers al 66esimo. Risultato completamente ribaltato. Segnerà poi McBride all'87esimo per il definitivo. 4-0 per il Celtic. Grazie.